Allora, Fabio Martini, prima citavi Mario Draghi di nuovo a Palazzo Chigi dopo praticamente due anni dalla sua uscita. La prima volta che torna, incontro con Giorgia Meloni, perché torna di moda all'agenda Draghi? Oppure questa roba, ti ricordi qual è la genesi di questo incontro? È stato annunciato l'incontro e poi si è scoperto che Mario Draghi aveva incontrato Marina Berlusconi suscitando una tempesta, non so dire se in un bicchiere d'acqua o in una piscina, perché poi la politica italiana è questa, perché c'era stato questo incontro con Letta che aveva fatto straparlare e fa straparlare anche oggi perché poi arriva la lettera di Marina Berlusconi oggi a Repubblica, ecco cerchiamo di recuperarla, dove vengono smentite tante cose, eccola la lettera. Meloni e Tagliani godono della mia stima. Che cosa sta succedendo? Torna Draghi perché piace l'agenda Draghi, alla Meloni. Allora, come diceva Mineo, partiamo dai fatti. Mario Draghi tornava a Palazzo Chigi dopo due anni, ma nel frattempo non aveva mai più scambiato una parola con la Presidente del Consiglio, questo lo posso affermare con certezza. Quindi primo. Secondo, l'invito è partito dalla Presidente del Consiglio legittimamente e Draghi non poteva che accettare perché è un fatto di cortesia. Da qui possiamo dedurre anche dai contenuti dell'incontro, da quel pochissimo che è trapelato, che non ci sarà della strada che verrà fatta assieme. La Presidente del Consiglio, come si diceva prima, ha avuto una ripresa, diciamo, positiva dopo un'estate disastrosa, ma uso un termine un po' carico, però effettivamente non è stata un'estate felice. E quindi l'incontro con Mario Draghi è stata una, come dire, una botta di immagine, oltretutto sublimata da un momento anche, come dire, che magari è passato inosservato, ma che francamente denota quel filo di mancanza di stile. A un certo punto, davanti alle telecamere, il Presidente Meloni ha baciato il Presidente Draghi, quindi affettando una familiarità, ecco, tutto legittimo. Naturalmente di questo stiamo parlando. Lo stesso può dirsi per l'incontro tra Marina Berlusconi e Mario Draghi. I due non si conoscevano, non si erano mai visti. Marina Berlusconi ha chiesto di incontrare Mario Draghi, che, come è noto, negli ultimi settimane ha finalmente presentato il suo rapporto, che tardava. E ovviamente ha avuto uno scambio proficuo di opinioni, con una personalità sicuramente di grandissimo valore, però di questo stiamo parlando. Ora, sembra una lettura minimalista, ma a volte accadono anche queste cose, cioè ci sono persone che chiedono un incontro, altre che lo accettano, magari anche per avere un minimo di riscontro, come dire, mediatico, che fa sempre piacere. A me risulta che ieri, a fine giornata, l'ex Presidente Draghi non fosse particolarmente, diciamo, come dire, gratificato da tutta la pubblicità che ha circondato questo incontro. Francesco Giubilei. Allora, Marina Berlusconi, nella lettera al Repubblico,